Musica Aggressione d'accoltellamento in viare 20 settembre ai danni di un quarantenne d'origine kosovara, l'uomo è rimasto gravemente ferito. Attacchi in OVAX via social network all'assessore La Sanità Riccardi, la DIGOS ha denunciato quattro donne, sono sollevato, ha detto il vicepresidente, ma ora si legiferi in materia. Uffici della regione in Portovecchio, addio le aree ex Grand Seasam, si va nei magazzini adiacenti, due grandi edifici e due palazzine, in uno allo sportello del lavoro. Camino via a rischio per il cavillo sulle ZPS, l'ingegnere Bernetti riguarda gli impianti di risalita collegati a piste da sci di piazza, stupidaggini. L'autorità portuale è in linea con il governo, sui cinesi, nelle attività portuali siamo i primi a vigilare, così il presidente del porto, Zeno D'Agostino, dopo l'attacco di Giulio Camber. Presentata l'edizione 54 della Barcolana, via le iscrizioni con gli speciali sconti per chi le formalizza subito, sarà l'anno del grande ritorno dei concerti. Con l'attuale aumento medio delle temperature per l'Italia si profila un futuro subdesertico, così il climatologo Filippo Giorgi. Telespettatori di Telequattro, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario che si apre con la cronaca. Aggressione e accoltellamento in pieno centro da parte di un gruppo di persone ai danni di un quarantenne di origine kosovara, rimasto gravemente ferito. Il servizio di Laura Bucarella. Aggredito da più persone e accoltellato in centro nella parte alta del viale 20 Settembre. Un quarantenne di origine kosovara è finito ieri sera in ospedale a Cattinara, con ferite gravi riportate nell'episodio violento, sul quale la polizia con la squadra mobile sta indagando a 360 gradi. Non di rissa, come è apparso in un primo momento, ma di vera e propria aggressione mirata si tratterebbe, secondo le prime indiscrezioni, avvenuta dopo le 21.30 di ieri sera nell'area del viale all'altezza del civico 72. Oltre all'arma da taglio, che ha ferito il quarantenne, probabilmente un coltello o un taglierino, sarebbero comparsi anche alcuni bastoni usati dal commando per quella che potrebbe essere una sorta di spedizione punitiva nell'ambito di un regolamento di conti, anche se, come detto, tutte le ipotesi sono ancora aperte. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto e immediatamente trasportato all'ospedale di Cattinara, dove tuttora è ricoverato in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ora sta portando avanti le indagini, sentendo anche alcuni testimoni. Non è chiaro se ci sia qualche video delle telecamere in zona che potrebbe far chiarezza sull'accaduto. Di certo l'episodio inquieta i residenti della zona del Viale. Social fuori controllo, Parlamento metta a mano, chiedo scusa, ho sbagliato, questo è il servizio successivo. Si riferisce questo al commento dell'assessore regionale Riccardi, in seguito alle quattro denunce per altrettante donne residenti fuori regione che sono state disposte dal PM Bacer per gli attacchi novax e diffamatori al profilo social dell'assessore Riccardi, orchestrati nel pieno della pandemia da Covid. Vediamo allora. Diffamazione, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, questi reati di cui dovranno rispondere quattro donne italiane di età compresa fra i 40 e i 60 anni, tutte residenti fuori regione, che avevano attaccato con contenuti novax il profilo Facebook dell'assessore regionale della sanità Riccardi. La vicenda risale al 13 maggio dell'anno scorso, quando il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia aveva presentato una querela per diffamazione negli uffici della Digos della Questura di Trieste, in merito ai numerosi post che denigravano la campagna vaccinale anti-Covid sul profilo social di Riccardi. L'enorme mole di commenti arrivava da un gruppo di persone nel cui logo del nickname appariva la sigla WW, con chiaro riferimento all'appartenenza ad un gruppo esplicitamente Novax. Grazie ad un elenco di profili ricevuti dalla segreteria dell'assessore, la Digos si è messa all'opera per intercettare i mandanti dell'attacco informatico realizzato con la tecnica del mail bombing, attraverso dei profili che sono stati identificati come fasulli dagli investigatori. Nonostante ciò la polizia è riuscita a risalire, grazie alle poche tracce informatiche lasciate dagli autori del gesto, ai responsabili della campagna denigratoria, nonostante l'importante lasso temporale trascorso dai fatti. Da qui le denunce partite sotto il coordinamento del PM Cristina Baccer. E adesso appunto il commento dell'assessore Riccardi che commenta a maro, social fuori controllo, il Parlamento metta mano. È inaccettabile pensare di dover subire le cose che ho subito io, che abbiamo subito in tanti e mi auguro che ci siano anche delle penne esemplarie. Se dovesse arrivare anche qualche risarcimento, dico fin da adesso che quel risarcimento sarebbe efficienza. Il Vice Presidente della Regione, Assessore alla Salute Riccardo Riccardi, accoglie con soddisfazione le denunce spiccate a carico di chi lo aveva attaccato via Facebook in seguito alle sue posizioni in merito alla campagna vaccinale. Una soddisfazione che da un lato non nasconde un disagio piuttosto profondo. Non dico tanto per me, ma tanto per tutte le persone che lavorano con me, che vivono vicino a me. Non è piacevole ricevere delle minacce di morte con tutto quello che poi alla fine abbiamo detto. Il Vice Presidente poi sottolinea un ulteriore aspetto della faccenda spostando l'attenzione sui social da cui le minacce nei suoi confronti sono partite. Strumenti che secondo me devono avere comunque la necessità di individuare delle regole. Io mi auguro che il Parlamento intervenga in questo. Non è possibile consentire a delle persone di avvelenare i polsi e di creare tensioni come è stato in questo caso. In chiusura comunque Riccardi tiene a sottolineare come un certo clima non sia affatto cessato. Il Presidente della Regione Federica che non è libero di prendere i suoi bambini e di fare qualche passeggiata in maniera normale che lo può fare soltanto se è scortato dalla polizia. Noi facciamo il nostro lavoro con le convinzioni, con serietà, con impegno, non siamo infallibili. Nessuno pensa di avere la verità in tasca. Se qualcuno pensa di avere le opinioni diverse, le esprime in un modo civile. La sede degli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia non verranno dislocate negli ex magazzini Green Seasam del Porto Vecchio ma in altri edifici adiacenti, sempre all'interno dell'antico scalo asburgico andando a creare quello che il Governatore Federica ha definito un quadrilatero regionale. Niente più magazzini di Green Seasam per gli uffici della Regione in Porto Vecchio. Le lungaggini burocratiche collegate agli edifici per un trentennio in concessione a Pierluigi Maneschi hanno fatto cambiare location all'amministrazione. Il polo si sposta dagli edifici vicini al molo quarto al settore successivo impegnando due magazzini, il numero 7 e il numero 10 e due palazzine, la 117 e la 118 dislocati in seconda fila rispetto al mare in asse con il bacino compreso tra il molo 2 e il molo 3 dell'antico scala asburgico. Ci spostiamo oltretutto in una limitrofa, quindi cambia pochissimo ma per velocizzare perché là è già di indisponibilità e oltretutto immobili già valutati e quindi su cui possiamo intervenire subito. In legge di assestamento mettiamo le risorse per acquistarli, io penso che già nell'autunno firmeremo il contratto per acquisirli e quindi ho già dato disposizione di iniziare subito le progettazioni così essere rapidi perché questo permetterà intanto di valorizzare un'area importante del Porto Vecchio e portare persone a viverlo. L'obiettivo è quello di creare un quadrilatero di uffici regionali con annesso parcheggio in grado di assolvere in un'unica area a tutte le possibili richieste e funzioni a favore della cittadinanza. Ci sarà tutta un'area proprio fisica dove saranno presenti gli uffici della regione una palazzina direzionale il centro per l'impiego poi un'area parcheggio che di fatto faranno tutto un quadrilatero da chi ha rapporti con la pubblica amministrazione regionale potrà andare e trovare tutto. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha annunciato anche un ulteriore riparto per la valorizzazione del Porto Vecchio da 10 milioni e mezzo di euro a favore del Comune di Trieste che sta facendo partire la progettazione per il polo sportivo sul terrapieno di Barcola. In più avremo un contributo che è esterno all'acquisto che ovviamente faremo per il Comune di Trieste per valorizzare l'area di Porto Vecchio di più di 10 milioni di euro. Cavillo ma... chiedo scusa Cavinovia Mare Carso ha rischio per un cavillo sulle zone a protezione speciale? Secondo i tecnici del Comune di Trieste assolutamente no. Il tema sarebbe già stato affrontato in fase pre-progettuale il primo a sollevare la vicenda è stato lo stesso sindaco di Trieste Roberto Di Piazza venerdì sera nel salotto di Ring. Adesso la prossima settimana mi ritrovo col ministro per spiegarle perché il ministero a Roma naturalmente è mosso sempre dai sinistri. No, questa però è una notizia cioè che cosa fa? Vi ha messo i bastoni tra le ruote? No, li spiego li spiego mi hai dato i soldi ho fatto il progetto mi hai dato i soldi non vi va bene? Ma ci facciamo causa allora ma perché? Cosa le dicevi? Il sindaco di Piazza lo aveva annunciato a modo suo venerdì scorso a Ring un cavillo tecnico che osterebbe la realizzazione della cabinovia che per gli uffici comunali però è già stato superato da tempo con l'adeguata interpretazione normativa quella relativa alle zone a protezione speciale in cui è inserita l'area del Bosco Bovedo dove dovrebbe passare il tragitto della cabinovia Mare Carso che prevede come in queste aree naturalistiche sensibili all'impatto ambientale non si possano realizzare impianti di risalita e piste da sci un tema noto da sempre agli uffici del Comune di Trieste come sottolineato oggi dal dirigente del Comune l'ingegner Giulio Bernetti Allora la legge regionale 14 del 2007 che riprende un decreto ministeriale evidenzia come sappiamo che nelle aree delicate ZPS ci sono una serie di divieti di cose che non si possono fare tra i vari divieti c'è la realizzazione di impianti di risalita e piste da sci è proprio un unico comma messi assieme che evidenzia questa cosa ora il nostro progetto non è un impianto di risalita è un trasporto pubblico locale è un impianto a fune se il legislatore avesse voluto vietare impianti di fune avrebbe schietto impianti a fune e non impianti di risalita a fune che basta cercare sull'enciclopedia per capire di cosa si tratta quindi siamo abbastanza sereni anche perché sia i progettisti sia i consulenti ambientali sia i nostri riferimenti in regione ci hanno detto che non è questo il campo di applicazione insomma si tratterebbe di un divieto che non riguarda l'impianto triestino ad ogni modo il confronto previsto per domani tra tecnici di comune e regione e il successivo faccia a faccia con il ministero dovrebbe sbrogliare la matassa quanto al sindaco il suo commento sull'ipotesi di stop al progetto oggi e quanto mai lapidario posso fare una sintesi? sì stupidaggini l'interporto di Trieste è in crescita nonostante la pandemia e la guerra guarda le opportunità di sviluppo per il futuro che passano anche attraverso la ferrovia approvato dall'assemblea dei soci il bilancio 2021 dell'interporto di Trieste il documento contabile chiude con un utile di 73.000 euro in leggera crescita rispetto all'esercizio precedente il valore della produzione ha sfiorato gli 8 milioni di euro movimentando 338.000 tonnellate di merce più 2% rispetto al 2020 6.612 contenere 3.708 unità intermodali pari a 16.954 TU nel corso del 2021 inoltre sono stati allestiti 349 treni intermodali e General Cargo erano stati 322 nel 2020 il traffico dei mezzi pesanti ha segnato un incremento del 7,2% rispetto all'esercizio precedente ma il recupero non è stato tale da riportare i flussi ai livelli prepandemici il 68% delle tonnellate complessive è stato movimentato e immagazzinato nella sede storica di Fernetti il 30% nella sede di Frieste a Bagnoli della Rosandra mentre il 2% si riferisce a movimentazioni avvenute utilizzando strutture e risorse nella controllata interporto di Cervignano i lavori di ristrutturazione del terminal di Frieste sottolinea la società si sono conclusi nel primo trimestre 2022 aumentando la capacità operativa della nuova sede il 2021 spiega ancora la nota va comunque considerato come un anno di svolta grazie all'accordo siglato con British American Tobacco che porterà il primo insediamento industriale del punto franco internazionale di Frieste la società si sta anche impegnando per lo sviluppo dei traffici ferroviari nella struttura logistica della controllata interporto di Cervignano dal mese di aprile di quest'anno in collaborazione col socio Duisburger Hafen Alpe Adria e di FDS è partito un nuovo servizio ferroviario col porto di Trieste e Duisport enfatizzando il ruolo dell'interporto di Cervignano come snodo logistico strategico fra Turchia Asia e Germania con vantaggi per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia Il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino ha risposto oggi ai nostri microfoni alle dure critiche pervenute ieri da Giulio Camber di Forza Italia sugli investimenti del colosso cinese Cosco nel porto di Trieste Cosco ad Hamburgo non è detto che sia forse socia al 15% di uno dei termini di ALA quindi allora smentiamo questa cosa ALA non è partecipata da Cosco forse torno a dire perché comunque il governo tedesco sta monitorando la cosa entrano al 15% nel termine più piccolo che hanno ad Hamburgo quindi questo va detto perché ho visto qualcuno fare dichiarazioni che erano viziate da un'ignoranza di questa situazione Così il presidente dell'autorità portuale dell'Adriatico Orientale Zeno D'Agostino ha risposto a muso duro alle dichiarazioni rilasciate ieri al Tg di Telequattro da Giulio Camber di Forza Italia su un porto di Trieste definito ormai in mano ai cinesi il numero uno dell'autority non ha mandato giù le dichiarazioni del già senatore che da dicembre del 2018 preconizza l'avanzata cinese a Trieste prevedendo come alla via della seta seguiranno sviluppi successivi che si abbatteranno anche sull'organizzazione del lavoro quanto invece alla posizione atlantista dell'Italia specie dall'insediamento del governo Draghi e al fatto che la Cina di fatto sia molto vicino alla Russia di Putin vedi le sanzioni combinate oggi dagli Stati Uniti a cinque aziende cinesi accusate di sostenere l'esercito russo nella guerra in Ucraina il presidente del porto ha risposto così c'è una guerra c'è chi sta da una parte e chi sta dall'altra e questo il nostro governo lo sa molto bene l'autorità portuale è lo Stato ed è chiaro che lo Stato non va a fare nessun tipo di accordi con soggetti che in questo momento sembrano stare dalla parte opposta rispetto alla nostra dico sembrano perché chiaramente posizioni ufficiali non ci sono ma è chiaro che però sappiamo benissimo da che parte sta l'Italia e l'Italia e il governo significa anche l'autorità quindi non stiamo parlando di investimenti stiamo parlando di 4 treni sui 250 e sono merci che passano dal nostro porto quindi noi seguiamo la linea totale del nostro governo la linea che sembra essere e non ho ipotesi per pensare diversamente atlantista e da questo punto di vista l'autorità di sistema vigila e quindi se qualcuno ha qualche preoccupazione stia tranquillo che abbiamo più informazioni di chiunque altro per poter vigilare meglio di chiunque altro su queste cose oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.556 test e tamponi sono state riscontrate 1.382 positività al coronavirus le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 1 in meno rispetto a ieri mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 155 4 in meno rispetto a ieri e non si registrano decessi ci fermiamo per la pubblicità poi torniamo con ancora molti servizi entriamo in studio al via le iscrizioni alla 54esima edizione della Barcolana la regata velica più partecipata al mondo in programma Trieste domenica 9 ottobre prima dell'evento Clu una settimana di Kermes dedicata al mare la letteratura la vela con il ritorno dei grandi concerti ogni anno un'emozione ogni anno colori diversi dipinti sulla tela del Golfo di Trieste ogni anno con ogni vento sulla linea di partenza quest'anno alla 54esima edizione con uno spirito diverso quella della libertà del ritorno ai concerti in piazza con un occhio alla sostenibilità alla gender equality e alla divulgazione di temi scientifici collegati al mare la Barcolana si mette in vetrina ancora una volta nella classica presentazione estiva che dà il via simbolico alle iscrizioni per la regata del 9 ottobre con il tradizionale suono della campana della società velica di Barcole Grignano che organizza l'evento chi si iscrive entro il 10 settembre avrà quest'anno uno sconto speciale l'early booking cioè chi si iscriverà entro il 10 settembre avrà uno sconto del 20% le barche più piccole fino alla quarta categoria dalla terza categoria in su uno sconto del 10% credo che sia importante ripartire dal nostro popolo della Barcolana degli amanti del mare degli armatori dei marinai che ogni anno ritornano in Barcolana rinnovata la partnership con il gruppo generali per un triennio con il presidente del gruppo del leone Andrea Sironi a presenziare sulla banchina di Barcola all'ombra dei pini marittimi un evento che rappresenta la cartolina di Trieste nel mondo ma anche un grande richiamo per il turismo in Friuli Venezia Giulia che l'impegno che le istituzioni gli organizzatori ovviamente in primis di Barcolana e gli sponsor ci hanno messo per questa edizione mi auguro possa rappresentare un'ulteriore spinta anche alla promozione turistica del Friuli Venezia Giulia che devo dire ha numeri buonissimi quest'anno ma ovviamente ogni evento e soprattutto Barcolana porta un contributo fondamentale nell'occasione è stato presentato anche il merchandising ufficiale dalla classica Polo quest'anno di color bianco all'abbigliamento tecnico in cui prevale l'intramontabile grigio chiaro alla Coppa d'autunno sono previsti eventi in banchina il villaggio trofei ad hoc per le donne skipper incontri dedicati alla letteratura e il Barcolana Sea Summit evento internazionale dedicato al dialogo sulla sostenibilità tra aziende istituzioni e mondo della scienza a partire dal 30 settembre torna la musica in Barcolana dopo due anni di pandemia ritorneranno i concerti in Barcolana in una nota Allianz Pallacanestro Trieste ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la stagione sportiva 2022-2023 con l'atleta Andrew Joseph AJ Pacher nato a Vandalia nell'Ohio il 17 febbraio del 1992 lungo di 208 cm per 100 kg di peso che può ricoprire tanto il ruolo di centro quanto quello di Alaforte grazie ad una mano educata anche dalla lunga distanza AJ si legge nella nota è un prodotto cestistico dei Raiders di Wright State University dove ha militato per quattro stagioni nella division first della NCAA durante i campionati passati in Italia il nuovo lungo bianco-rosso si è affermato come uno dei migliori giocatori nel campionato di serie A2 confermandosi anche nell'annata appena trascorsa il migliore in assoluto per media di valutazione nella stagione regolare realizzando per il club basket Ferrara più di 16 punti a partita con quasi 8 rimbalzi ed ottime percentuali dal campo da 3 punti e dalla lunetta dopo la multa da 2.000 euro combinata al nonno di un ragazzino che si tuffava davanti all'imboccatura del porticciolo Cedas di Barcola incurante del divieto di balneazione dei ripetuti avvisi verbali degli addetti della Capitaneria di Porto oggi abbiamo approfondito il tema con l'ammiraglio Vincenzo Vitale comandante della Capitaneria di Porto Ammiraglio Vitale ha fatto molto scalpore la multa da 2.000 euro al nonno di quel ragazzo che si era tuffato davanti all'imboccatura del Cedas da quello che so però voi avete fatto prima un'azione preventiva poi addirittura sono stati presi in giro gli addetti della Capitaneria di Porto da questi giovani su questo che sta dicendo la parte finale del presi in giro lasciamo stare voglio dire ci sta nelle situazioni di attività di polizia anche preventiva succedono quindi voglio dire è l'ultima delle cose in effetti la situazione di pericolo c'è stata c'è stata perché al di là e fermo restando l'attività preventiva che era stata fatta diciamo di sollecio di sensibilizzazione il tuffo si è verificato mentre una barca stava per entrare quindi voglio dire la situazione come dire di reale pericolo c'è stata il porto è piccolino le barche che entrano sono costrette ad entrare dal retro del porto quindi in effetti non hanno visuale dietro l'angolo giri viri a destra diciamo accosti a dritta e ti ritrovi invece quello che si tuffa e poi addirittura insomma puoi creare veramente un incidente che può essere anche mortale metteremo anche la sanzione diciamo nei cartelli perché non è indicata domani mattina abbiamo un incontro con l'amministrazione comunale e con CEDAS proprio diciamo per andare a cercare di regolare meglio la situazione dove c'è un provvedimento nostro del 2003 che tuttavia diciamo è un provvedimento efficace perché in effetti diciamo fotografa la situazione di fatto e ha un divieto assoluto ieri durante Trieste in diretta il professor Filippo Giorgi ha fatto il punto sul riscaldamento globale e cambiamento climatico tracciando le linee di un futuro piuttosto preoccupante se non si invertirà la rotta il professor Filippo Giorgi del centro di fisica teorica è una delle massime autorità mondiali nel campo della meteorologia e della fisica dell'atmosfera componente un'organizzazione internazionale che ricevette il Nobel per la pace nel 2007 Giorgi ha analizzato ieri durante Trieste in diretta l'attuale situazione climatica il territorio italiano negli ultimi cento anni si è riscaldato di due gradi e mezzo la media globale è un grado quindi più del doppio della media globale perché il Mediterraneo è una zona di transizione dal clima arido del nord Africa al clima molto umido e temperato del nord Europa per meglio rendere la gravità del momento il professor Giorgi storicizza la situazione e ne esce un quadro decisamente preoccupante negli ultimi diecimila anni le temperature sono variate di meno di un grado in diecimila anni noi qui parliamo di più di un grado in cento anni è qualcosa che il nostro pianeta non ha mai visto almeno negli ultimi diecimila anni la cosa ancora più sconvolgente è che i nostri modelli ci dicono che se non si fa niente appunto per ridurre le emissioni potremmo arrivare a tre quattro gradi di riscaldamento e lì veramente sarebbe qualcosa che il pianeta non ha mai visto negli ultimi tre milioni di anni con dati simili se il trend non si ferma per la terra paradossalmente ma neanche tanto è facile immaginare un futuro devastante uno sconvolgimento uno sconvolgimento completo alcune zone oggi fertili diventeranno deserti alcune zone e viceversa cambierebbero la traiettoria delle perturbazioni e così via in particolare noi nel Mediterraneo dobbiamo preoccuparci più di altre zone perché il Mediterraneo è quella che noi chiamiamo una cosiddetta zona calda del riscaldamento globale hot spot in inglese che vuol dire è una zona particolarmente sensibile al riscaldamento globale in un simile contesto per quel che concerne il nostro paese si prospetterebbe una realtà anche da un punto di vista sociologico del tutto inimmaginabile abbiamo fatto un piccolo giochino abbiamo visto che il clima della terra dell'Italia per fine secolo sempre negli scenari così di business e di usual in cui potrebbe essere simile a quello che oggi c'è in Libia piuttosto che in Algeria o in Chad insomma c'è un clima semidesertico adesso pensiamo chi sono oggi i migranti vengono da lì chi possono essere i migranti del futuro potrebbero essere i nostri figli i nostri invodi quindi che potrebbero cercare zone più favorevoli come hanno fatto le civiltà per millenni secondo il professor Giorgi il tempo per agire c'è ancora non molto va detto a patto che non se ne perda insistendo su fonti di energia già obsolete come il nucleare che a suo dire non dovrebbe essere perseguita neppure nella forma di nuova generazione ieri no chiedo scusa oggi è un po' così è stato presentato stamani il cartellone estivo dell'armonia che parte già sabato 2 luglio l'associazione delle compagnie amatoriali ha rinnovato il direttivo c'è un nuovo presidente il dialetto triestino è uno dei valori della nostra comunità e il comune di Trieste è ben lieto di essere a fianco dell'armonia per creare le condizioni per proporre degli spettacoli non solo durante la stagione invernale ma anche durante i momenti estivi e anche in luoghi della città non solo in centro ma anche nelle zone decentrate così l'assessore comunale ai teatri Serena Tonella margine della presentazione della stagione estiva dell'armonia che prenderà il via già sabato prossimo 2 luglio 6 gli spettacoli già presentati nel corso della stagione ufficiale da poco conclusasi per 11 appuntamenti si parte con una mora bassa pressione per proseguire con mi ti e l'antrios sussidio caschime in bocca unico spettacolo ad essere proposto in una sola replica casalinghe di sperade de me pase per chiudere con el zogo delle tre porte per questo cartellone estivo l'armonia torna al parco di San Giovanni gli spettacoli si terranno all'aperto al teatro Franco e Franca Basaglia all'interno del teatro in caso di maltempo per l'associazione fra le compagnie amatoriali non sarà l'unico appuntamento estivo noi avremo tanti appuntamenti in giro per la regione come sempre ci hanno invitato un po' dappertutto e noi ci saremo come sempre la presentazione di Restate in Armonia è stata anche l'occasione per la prima uscita di Paolo Dalfovo quale nuovo presidente dell'associazione voglio veramente ringraziare Giuliano Zanier presidente per tanti anni che ha fatto un lavoro straordinario ma non solo lui tante persone che sono uscite dal consiglio direttivo ma in realtà sono sempre presenti a dare una mano all'armonia Dalfovo inaugurando un corso nuovo che c'è da scommettere seguirà una tradizione collaudatissima così sintetizza il segreto dell'armonia da anni una vera e propria macchina da guerra della leggerezza se ci è consentito l'ossimoro la semplicità forse il portare un teatro popolare un portare un teatro semplice con ogni tanto qualche piccola chicchettina di novità di contemporaneità però rimanendo sempre fermi al dialetto e alla tradizione rievocazioni storiche da luglio a settembre promosse dal comune tornano le manifestazioni le stagioni delle armi e leggiomania tornano dopo il successo delle passate edizioni le rievocazioni storiche promosse dall'assessorato alla cultura e turismo del comune tra il castello di San Giusto e il museo Winkelmann si comincia con le stagioni delle armi giunta alla terza edizione in programma nei fine settimana di luglio e agosto ognuna delle 18 rievocazioni prevede la presenza di almeno 8 figuranti preparati per le spiegazioni al pubblico quest'anno su 4 percorsi interni ed esterni al castello di San Giusto sono due cose che abbiamo sperimentato negli anni precedenti che ha avuto successo anche se c'era un po' la pandemia quest'anno saremo più liberi la stagione delle armi sono delle iniziative che facciamo qui in castello che avranno una quindicina di rappresentazioni il sabato e la domenica su quelli che sono stati gli usi e i costumi di questo castello in particolare di quelli che hanno abitato qui lo hanno custodito alle visite guidate di un'ora si accede con il normale biglietto d'ingresso al castello per legio mania il civico museo di antichità Winkelmann ospiterà anche quest'anno la legio italica con i suoi appassionati rievocatori in costume e gli atleti di Ars di Micandi dal 23 al 25 settembre nella osi verde del giardino del capitano e poi abbiamo la legio mania che la faremo al Winkelmann che è un'iniziativa di grande attrazione soprattutto per i bambini in cui un'associazione che cura questo si presterà per attività didattica e non solo quindi ci sarà una grande affluenza e mi auguro come gli anni precedenti un'ultima cosa che forse la cosa a cui tengo maggiormente settembre-ottobre dopo che avremo concluso queste iniziative ci sarà la presenza di figuranti nel castello di San Giusto prima di salutarvi vi ricordo un appuntamento che andrà in onda alle 21 Galileo's Journey uno spettacolo musicale ma non solo che vede l'organizzazione del Conservatorio Tartini quindi ricordatevi questo appuntamento Galileo's Journey alle ore 21 grazie a tutti appuntamento domani come sempre con Sveglia Trieste buon appuntamento di serata e arrivederci a presto